Allora, buongiorno, io sono Giuseppe Antonelli, dopo questa bellissima lezione di Alessandro Barbero per l'Orabuca di Storia ho il compito di riempire l'Orabuca di Italiano. Allora la prima cosa che ho pensato è, quando ero ragazzo io, che mi sarebbe piaciuto vedere entrare come supplente nell'Orabuca di Italiano e mi è venuto in mente subito un film che per la mia generazione è stato un film fondamentale che ci ha fatto sognare, a volte ci ha fatto anche fare delle scelte nella nostra vita. Il film era questo. E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa, imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo. Quello sguardo negli occhi di Pitts dice che la letteratura dell'Ottocento non c'entra con le facoltà di economia e di medicina. Vero? Può darsi. E lei Hopkins è d'accordo con lui e pensa, eh sì, dovremmo semplicemente studiare il professor Pritchard, imparare rima e metrica e preoccuparci di coltivare altre ambizioni. Ho un segreto da confessarvi, avvicinatevi. Avvicinatevi! Anch'io ho un segreto da confessarvi, esattamente come Robin Williams nell'attimo fuggente. Aveva appena strappato un libro di letteratura che aridamente riduceva la letteratura a fenomeni di metrica. E allo stesso modo io vorrei idealmente strappare un pregiudizio, cioè quello che la grammatica sia noiosa, sia polverosa, sia una cosa statica, sempre uguale a se stessa, dogmatica. E invece il segreto che voglio rivelarvi è che la grammatica è glamour, è una figata. Addirittura è qualcosa di affascinante e lo è per una precisa ragione, una ragione peraltro interna alla lingua. Lo è etimologicamente. Intendo dire che glamour ha come etimologia grammatica. Dalla parola latina grammatica, la grammatica, badate bene, era riferita per molti secoli, dal Medioevo fino al Rinascimento, solo alla lingua latina e quindi a libri oscuri, misteriosi, incomprensibili. Da lì il francese antico ha tratto la parola grimoire, che erano i libri di stregoneria, i libri di streghe, di incantesimi. E da lì, dal grimoire francese, lo scozzese ha tratto glamour. D'altronde anche fascino ha la stessa etimologia. D'accordo? È l'incantesimo che ha su di noi qualcuno o qualcosa. Ma come fa la grammatica a incantarci? La grammatica ci può incantare, ci può persino divertire, se noi ci ricordiamo che la grammatica non è soltanto un dovere. La grammatica è un diritto di tutti noi, perché esprimersi correttamente e capire bene che cosa ci succede intorno attraverso la lingua è l'unico modo di essere veramente cittadini consapevoli, uomini e donne responsabili, ma soprattutto la grammatica è un'arte. La grammatica faceva parte, nel Medioevo, del cosiddetto trivio delle arti liberali. C'era la dialettica, c'era la retorica e c'era la grammatica. E noi quest'arte possiamo recuperarla se usciamo dalla mentalità del vicolo chiuso, dalla mentalità della regoletta da imparare a memoria. Diciamo, se rispetto alle linguine alla norma, che non si fanno, perché alla norma si condiscono altri tipi di pasta, ma insomma, tanto per fare un esempio, cominciamo a sostituire un menu un po' più vario. Il primo elemento che può portare varietà nella norma è la storia della lingua. Capire che le regole non ci sono state date da Dio, esattamente come la storia. Non è che le cose arrivano e sono così, hanno una loro storicità, si trasformano. E allora diciamo che la grammatica è l'arte di dire al momento giusto le cose nel modo giusto. C'è un po' un galateo della lingua. Non so se vi ricordiate come comincia il galateo di Monsignor della Casa. Comincia così, conciossi a cosa che tu incominci pur ora quel viaggio del quale io la maggior parte, siccome tu vedi fornito, bla 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 bla. Vittorio Alfieri racconta nella sua autobiografia che da giovinetto, quando lo obbligarono a studiare questo testo di Monsignor della Casa per imparare i modelli di buona lingua italiana, Alfieri da Piemontese, come tutti quelli che non erano toscani, aveva praticamente bisogno di studiare l'italiano come una lingua straniera, Bene, Alfieri racconta che a vedere quel conciossi a cosa che, seguito dal periodo così lungo e contorto, ebbe la tentazione di gettare dalla finestra il libro. Un po' come Robin Williams che strappa il manuale del professor Pitchard. Ma oggi a noi, oltre a quel conciossi a cosa che, ci colpisce qualcos'altro, ci dovrebbe colpire qualcos'altro in questo testo. Sta verso la fine, nelle ultime righe, ci sono due congiuntivi, due congiuntivi strani, possi agevolmente cadere e possi tenere la diritta via. Allora, qualcuno dice, un po' sconsolato, che non esiste più il futuro di una volta. Bene, io vi posso anche dire che non esiste più il congiuntivo di una volta, perché il congiuntivo, storicamente, fino a un paio di secoli fa, aveva delle forme diverse. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo? Sì! Aspetti! Batti lei è congiuntivo. D'accordo, questo per noi è il congiuntivo alla fantozzi, d'accordo? Venghi d'otto, vadi. Però questa è una pagina delle operette morali di Leopardi. Allora, Leopardi era in grado di gestire qualunque livello della lingua italiana, nelle sue lettere familiari, nelle lettere agli amici, al fratello. Troviamo anche delle parolacce, delle invettive violento, degli scherzi da ragazzo, che non ci aspetteremmo da lui, perché c'è anche questo problema, che noi della lingua studiamo solo il livello alto. Di questi personaggi, della storia, della letteratura, conosciamo soltanto il lato ufficiale. Ma a volte è molto più divertente, ve lo garantisco, vedere che anche loro usavano la lingua in tante maniere diverse. Però le operette morali sono il luogo in cui Leopardi cerca di forgiare una prosa nobile, che sia al tempo stesso antica e moderna, dice Nello Zibaldone. Bene, di là ho messo apposta il correttore automatico di Word per farvi vedere quante differenze coglie rispetto alla lingua di oggi, ma quelle che mi interessano sono queste, benché tu vadi e che mi sii sorella. Domanda, secondo voi Leopardi non conosceva la grammatica? Leopardi usava i congiuntivi alla fantozzi? Ovviamente no, era la grammatica ad essere diversa, perché nelle grammatiche ottocentesche nello specchietto dei verbi si aveva che io abbi, che tu abbi, colui abbia, che io sia, che tu sii, colui sia, che io tema, tu temi, io tema. E badate bene che questa è una grammatica scritta da uno dei fondatori del purismo, Basilio Puoti, grammatica del 1851 in questa edizione, ma ristampata per quasi tutto l'Ottocento e utilizzata in molte scuole del regno. Intendo dire, questa era la grammatica ufficiale. Allora, cominciamo a partire da quest'idea. La grammatica cambia, come tutto il resto. Ha una sua storicità, una sua evoluzione, un suo dinamismo. Questo è interessante perché ci porta a relativizzare quello che impariamo a chiederci, perché magari quella cosa va detta così. Certo, non dobbiamo confondere il passato col presente, intendo dire, anche se Leopardi scriveva che tu vadi, non siamo oggi autorizzati a fare come alcuni politici e a usare questo genere di forme, perché sia ben chiaro, la grammatica oggi non le accetta più. Mi facci finire. Un secondo esempio. In politica ci sono, ahimè, i nostalgici di quando c'era lui. In grammatica ci sono i nostalgici di quando c'era egli. Cioè quelli che sono affezionati al pronome personale egli e continuano a pensare che sia l'unico pronome personale che si possa utilizzare in funzione di soggetto. In realtà l'amico Manzoni, anche lui lo vediamo un po' come Leopardi in una chiave diciamo poco ufficiale. Questa tra l'altro era una pubblicità che circolava a Milano qualche tempo fa. In realtà Manzoni, dopo lunghe riflessioni, dopo aver dedicato tutta la sua vita alla lingua del romanzo sui promessi sposi, decide di togliere di torno egli ed ella. In questo caso, come vedete, abbiamo a confronto l'edizione del 1827, la prima edizione dei promessi sposi, con quella del 1840-42. La prima si chiama di solito la ventisettana, la seconda la quarantana. Vediamo che in questo caso è il pronome allocutivo, ma comunque passa da ella a lei. se ella non mi fa questa, ma anche ella se la provasse. Avete idea di chi potrebbe essere ella? Ella si usa ovviamente come pronome di cortesia anche per gli uomini. Se c'è Lucia in questa scena che sta pregando qualcuno, ella sarà... Vabbè, d'accordo, andate a ripassare la letteratura, poi ne parliamo, l'innominato. Manzoneva ha già deciso di toglierli di torno, eppure anche nella lingua giornalistica, che è quella che pure rappresenta meglio l'italiano moderno in una forma corretta, fluida, adeguata, questo è un articolo di un paio di anni fa, del Corriere della Sera, di un grande editorialista, che però in fatto di lingua ha posizioni piuttosto conservatrici, che sono emerse anche nel dibattito degli ultimi tempi, come vedete, in un articolo di tre colonne, un editoriale della prima pagina del Corriere della Sera, usa una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette volte egli. In questo caso egli chi era? Matteo Renzi, anche lui rinnominato. Io mi aspettavo che alla fine dell'articolo ci fosse quasi una battuta su questo, come a dire, ho usato egli per tenerlo a distanza, perché volevo prendere una misura linguistica che segnalasse la mia separazione rispetto alle idee di questo personaggio, invece no, è semplicemente l'effetto di una grammatica scolastica che ha continuato a lungo, e in certi casi ancora oggi continua, a ritenere egli come l'unico pronome soggetto possibile. Allora, a proposito di grammatica scolastica, mi siete mai chiesti una cosa? Quando io andavo a scuola, almeno, mi insegnavano che esso ed essa potevano essere utilizzati solo per gli animali o per le cose inanimate, mai per le persone, però al plurale essi ed esse si potevano usare per le persone, e qualcosa non funziona, qualcosa non funziona, perché il punto è che già tanto tempo fa sono passati di moda e sono diventati inutilizzabili i due plurali di egli ed ella, perché c'era ella, egli, e poi al plurale elleno ed eglino. E sono passati di moda tanto tempo fa, come ci conferma quest'aneddoto ottocentesco, questo lo racconta in un romanzo di primo novecento Bruno Cicognani, ma si riferisce a una scuola femminile di cui sua mamma era preside, quindi siamo nella seconda metà dell'Ottocento, in una scuola femminile in Toscana. Entra il nuovo professore, appunto il supplente, come nell'ora buca, e comincia con un tono tra l'aspro e il solenne. Elleno adunque! Le risa scoppiarono, quegli corrugò la fronte, volse per i banchi occhi lampeggianti, le giovinette ebbero soggezione, e allora esso, schiaritosi amabilmente, parlò a quella di faccia, che ancora non era riuscita a ricomporsi. Povera ragazza! Le tremolavano ancora i ricciolini neri, la bocca fresca, e negli occhi aveva tremule le lacrime del riso. So che ella avrebbe detto sì che loro, loro come pronome soggetto al posto di Elleno, ma poi continua e dice noi qui non parliamo la lingua delle ciane, che era un'espressione toscana per dire dei popolani, delle popolane. A rendere più divertente questo aneddoto c'è il fatto che questo supplente, che arriva con i capelli un po' scarmigliati e questo tono così burbero, era niente meno che Giosuè Carducci, che il fatto di lingua italiana aveva le sue idee molto chiare. Allora, Elleno ed Elleno erano già passati di moda alla fine dell'Ottocento, Manzoni prova a sostituire egli ed ella con lui e lei, ma Manzoni, molto più spesso, semplicemente elimina il pronome soggetto. Ricordiamoci che la lingua italiana non è come altre lingue, come il francese o come l'inglese, una lingua ad espressione obbligatoria del soggetto. Il soggetto lo ripetiamo, lo esprimiamo, lo esplicitiamo quando è diverso da quello della proposizione principale del periodo precedente, altrimenti possiamo evitarlo. La correzione, l'autocorrezione di Manzoni da pronome soggetto egli ed ella a nessun pronome soggetto è molto più frequente del passaggio da egli a lui e da ella a lei. E questo ci spiega perché molte volte anche il pronome esso ci suoni scolastico, risulti pesante quando lo leggiamo e ancor più quando lo sentiamo in una lingua parlata. Una volta una mia amica mi ha detto esso è un pronome che mi puzza di benzina. Questa è una pubblicità della benzina appunto degli anni Sessanta, ma già negli stessi anni Sessanta del Novecento esso, essa, essi dovevano essere considerati qualcosa di scolastico e di leggermente ridicolo perché venivano usati per far ridere. Quando una forma linguistica far ridere è usata dai comici vuol dire che sta passando d'uso, che sta diventando antiquata e in questo caso negli anni Sessanta i comici erano Cocchi e Renato. Bisogna alzare un po' il volume. A me mi piace il mare. Ma aspettila per una volta che sei stato in Colonia. Non so se qualcuno di voi si è mai stato al mare. Il mare è fatto. Aspetta un momento, eh. Avanti. Tutto davanti un... No, di dietro. Davanti o di dietro? Di dietro le case. Venendo avanti si incontra tutta una struttura che viene giù a repentino. Tac. Di fronte c'è il vicolo di Arma di Taggia dove sono stato in pensione con mio papà. Tutto pagato. Davanti ancora una roba buttata giù per terra. Tipo farina. Però essa è sabbia. Ma non messa giù a mucchi. Tutta spianata bene. Sinistra, destra. Ehm... Tipo spiaggia. Di fronte tutta una roba piena d'acqua. Ma non fissa come il palazzo del ghiaccio. questa è tutta temovibile. Come sarebbe temovibile? Sarebbe alto-basso. Qui si fanno i tuffi se l'acqua è alta. Se l'acqua è bassa si entra e si... Sono stato a Genova da solo per la volta l'era. Essi vanno anche in barca. Se no si può stare all'asciutto e bagnarsi con l'onda che arriva. Cic. Essa è semovibile. Essi vanno anche in barca. Fa parte ormai di una lingua comica. Terzo esempio. Terzo e ultimo esempio per cercare di dimostrarvi che la grammatica è glamour e divertente. È qualcosa di estremamente vivo e dinamico. Leggere, scrivere, argomentare. C'è il marziano che si arrabbia con il correttore automatico mentre scrive i suoi geroglifici e gli esce fuori l'emoji. Oggi la lingua italiana sta cambiando per la prima volta attraverso la scrittura. L'italiano è diventato la lingua parlata da tutti gli italiani solo tra gli anni sessanta e gli anni ottanta del novecento. Prima la maggior parte degli italiani parlava in dialetto. E lì ha contato molto la lingua ad esempio della televisione. Oggi l'italiano sta diventando per la prima volta la lingua scritta da tutti gli italiani ma non perché prima gli italiani scrivessero in un'altra lingua perché prima gli italiani semplicemente non scrivevano scrivevano pochissimo. Noi dobbiamo a questi mezzi telematici tanto bistrattati una cosa fondamentale aver portato le persone a scrivere a scrivere tutti i giorni. Guardate questa è un'inchiesta che Poste Italiane richiede nel 2000 nel 2000 meno di vent'anni fa Poste Italiane si preoccupa del fatto che la gente non scrive più lettere non spedisce più cartoline non compra più francobolli rapporto tra gli italiani e la scrittura il quasi 40% degli italiani dichiara di usare la scrittura solo in due occasioni gli appunti sull'agenda e la lista della spesa non sono testi molto più complessi di un Whatsapp o di un SMS due etti di prosciutto quattro panini alle tre dal dentista alle quattro dal barbiere e notate che è il 38% vale a dire che c'era un 60% che non scriveva mai dopo l'ultima prova scritta scolastica appendeva la penna al chiodo come i calciatori che smettono o che dovrebbero smettere tipo Totti d'accordo? Questo è un dato significativo prima si scriveva pochissimo e qual è l'altro dato significativo? la colonnina viola in fondo perché ci dice che in quello stesso momento nel 2000 tra l'altro anno simbolico di passaggio c'è un 40% di giovani tra i 18 e i 19 anni che ogni giorno scrive SMS è quello che è stato definito il passaggio dalla epistola la lettera tradizionale alla E trattino epistola con la E di electronic quella di email o di ebook ma come si scrive? si scrive in maniera diversa questo è un fotogramma tratto da Caterina va in città un film di Paolo Virzi dei primi anni 2000 è a mia memoria la prima volta che appare sullo schermo la digitazione di un SMS e come vedete i ragazzi o le ragazze si esprimevano o si presumeva si esprimessero utilizzando la cappa utilizzando tanti punti esclamativi utilizzando le faccine vi faccio notare che all'epoca non c'era la possibilità di spedere fotografie perché a questo messaggio ricevuto dalle sue amiche antipatiche e snob Caterina risponde così io qui con amico atletico fichissimo ciao Cate capite da voi che ci fosse stato Instagram non avrebbe potuto fare una cosa del genere allora perché è interessante perché anche qui nel ristretto arco di neanche 20 anni sono già successe alcune cose interessanti abbiamo visto le abbreviazioni giusto allora nei primi anni 2000 una grande azienda della telefonia faceva questa pubblicità comprava una pagina intera di un quotidiano faceva vedere questo testo e diceva genitori i vostri figli scrivono così se non avete capito questo testo vi dovete preoccupare perché non sanno che cosa non sapete che cosa loro fanno si scrivono però se vi comprate l'abbonamento alla nostra azienda telefonica vi diamo il dizionario dei telefonini con le abbreviazioni e tutto è risolto cioè si presumeva che le abbreviazioni fossero un modo tipico della scrittura giovanile degli sms bene passati 15 anni la situazione è un'altra mamme che scrivono whatsapp alle loro figlie comincia comincia la madre come ieri tu che fai scritto con la k la ragazza risponde mi sono lavati i capelli mamma k non lo scrivere più ma come prima mi insegni a scrivere la moda e poi non va bene deciditi k si usava quando ero in seconda media ora si usa un semplicissimo che faccina che strizza l'occhio faccina fai ma no era la faccina di conclusione allora e poi non una parola muoro perché questo è Bastianich di Masterchef le nuove fonti di lingua non sono più Petrarca e Boccaccio ma sono appunto i cuochi di Masterchef anche in questo sta cambiando la lingua italiana quello che mi preme però a farvi vedere è che in dieci anni la situazione si è capovolta le abbreviazioni erano considerate tipiche dei ragazzi dei giovani e si pensava che gli adulti non le capissero adesso come succede per certe mode dell'abbigliamento gli unici che siamo rimasti usare le abbreviazioni siamo noi adulti che pensiamo di essere alla moda ma non ci siamo resi conto che le cose sono già cambiate i ragazzi io giro spesso parecchio per le scuole i ragazzi non le usano più non le usano più dicono che gli ultimi ad usare le abbreviazioni sono i bimbi minchia scritto ovviamente con la K perché se no la cosa non tornerebbe non c'è un merito particolare può bastare allora c'è un'ultima cosa però che notiamo da queste due schermate diverse ed è proprio evidente al colpo d'occhio perché oggi Whatsapp ma anche qualunque telefonino che ci mostra gli sms ce li mostra in questa seconda maniera e allora ci rendiamo conto di una cosa si è fatto un gran parlare di ipertesto all'inizio dell'era di internet l'ipertesto come un testo aperto costruito dal lettore attraverso il passaggio da un testo all'altro intendo dire è vero ognuno di noi oggi consuma ipertesti quando va in rete cominciamo a leggere un articolo di giornale poi vediamo citata un'altra cosa ce l'andiamo a cercare su Wikipedia poi da lì decidiamo che ci interessa approfondire un altro argomento apriamo un film però quando noi comunichiamo attraverso questi mezzi telematici quando siamo noi a scrivere e anche a leggere nel senso proprio della epistola nel senso della comunicazione interpersonale non scriviamo ipertesti casomai rimaniamo prigionieri degli ipotesti cosa intendo dire intendo dire che questa impaginazione in cui vediamo i diversi turni di parola ci rende evidentissimo un fatto il testo non è la singola battuta di discorso scritta da ciascuno faccina fai non è un testo compiuto e spiegati non è un testo compiuto d'accordo? perché ogni turno di parola è semplicemente un mattoncino che noi mettiamo per la costruzione del testo compiuto che avviene attraverso il dialogo è l'insieme di tutto questo botta e risposta che costruisce un testo compiuto intendo che abbia un senso compiuto che abbia una sua costruzione interna e allora dobbiamo ragionare sul fatto che oggi noi ci stiamo disabituando alla testualità intendo dire si è tanto parlato del problema della K vi faccio notare che la K era già nel primo documento che noi riteniamo l'atto di nascita della lingua italiana il placito capuano del 960 Saoco che le terre perché li fini che chi contene trent'anni le possette parte santi benedicti se l'andate a guardare è scritto con un sacco di K perché prima della normalizzazione dell'ortografia che avviene a partire dal 1612 con la pubblicazione della prima edizione del vocabolario della Crusca c'erano diverse tradizioni di scrittura quel K poi tornerà sarà il K politico degli anni 70 ve le ricordate le scritte mi riferisco agli adulti Cossiga Boia scritto con la K per esempio ecco c'è un uso del K che fa parte anche della cultura giovanile della fine del 900 se tanto parlato della X viene citato spesso questo strano personaggio che è Nino Biperio non so se l'avete mai sentita la storia di Nino Biperio c'è una ragazza o un ragazzo che all'esame di storia dice che accanto a Garibaldi nella spedizione dei Mille c'era Nino Biperio perché negli appunti che le hanno prestato che gli hanno prestato c'era scritto il cognome giusto Nino Bixio ma lei o lui ha pensato che quella X andasse letta come un per e quindi da Nino Bixio esce fuori Nino Biperio questa è una storia che viene raccontata spesso ma è la tipica leggenda metropolitana andando a cercare in Google Books la parola Biperio mi sono reso conto che la prima volta che risulta utilizzata è in un articolo di giornale in cui c'è un ragazzo intervistato che racconta esattamente questa storia e quell'articolo di giornale del 1977 ora nel 1977 era tutto di là da venire non potevamo neanche immaginare internet i telefonini i computer facevano parte della fantascienza nel 77 pensavamo al 9000 di 2001 uno di sé nello spazio allora lasciamo perdere le X lasciamo perdere le K la vera questione qui è che sta cambiando il senso della testualità ci stiamo disabituando a una testualità compiuta a un testo che abbia un inizio uno sviluppo e dunque un'argomentazione e una conclusione e guardate che ci stiamo disabituando i ragazzi ma non soltanto anche a leggere un testo che sia un testo vero un testo compiuto io insisto molto su questo secondo me il vero problema oggi la vera questione da tenere viva nelle scuole con i ragazzi e con le ragazze è la testualità e perché dico che ci stiamo disabituando anche a leggere perché ce lo dicono dei dati obiettivi le ricerche che l'Ox questa organizzazione internazionale fa ogni due anni ci dicono questo le ricerche si basano per quanto riguarda la literacy cioè la capacità appunto di gestione del testo sulla adeguata comprensione di un testo giornalistico bene allora questo è il risultato medio del Giappone della Finlandia dell'Olanda dell'Australia della Svezia della Norvegia questa è la media dei paesi Oxy quella gialla il rosso è l'Italia questa era una cosa su cui insisteva tantissimo il compianto e inarrivabile maestro Tullio De Mauro sì per Tullio De Mauro sì davvero sì allora grosso modo un terzo degli italiani è in grado di capire davvero cosa dice un articolo di giornale un terzo capisce così così un terzo lo capisce male allora in un mondo che è sempre più scritto perché oggi attraverso la scrittura passa tutto passa la nostra vita privata la nostra vita professionale la nostra informazione molto più di un tempo in un mondo che è sempre più scritto essere tagliati fuori dalla comprensione del testo vuol dire non essere dei cittadini a pieno titolo vuol dire rischiare di avere difficoltà nel realizzare le proprie aspirazioni personali o professionali allora per chiudere ricordiamoci sempre che l'italiano non è soltanto la grammatica delle regolette l'italiano è qualcosa di più è la capacità di argomentare la capacità di far valere le nostre idee e quindi come diceva all'inizio Robin Williams forse anche quella di cambiare il mondo ve lo ricordo con un altro un altro brevissimo filmato questo è il film tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia una storia semplice del 1989 il protagonista nel ruolo del professore lo vedrete Gian Maria Volontè Gian Maria Volontè il professore viene interrogato da un magistrato che era stato suo alunno e a un certo punto si dicono queste cose si ricorda di me il professore certo che mi ricordo se mi permette vorrei farle una domanda poi ne farò anche altre ma di diversa natura nei comporimenti di italiano lei mi assegnava sempre un tre perché copiavo ma quella volta mi ha dato un cinque ma perché? perché per la volta aveva copiato da un autore più intelligente eh l'italiano era piuttosto debole in italiano ma come vede non è stato un gran guaio adesso sono qui procuratore della Repubblica vede l'italiano non è l'italiano è il ragionare come in italiano lei sarebbe fosse ancora più in alto l'italiano l'italiano non è l'italiano l'italiano è il ragionare e vorrei che questa cosa ce la ricordassimo sempre tutti grazie grazie